Vasco Rossi, Vivero Niente, disco di diamante Vivero Niente è l'ultimo lavoro discografico di Vasco Rossi. Il nuovo disco è stato pubblicato lo scorso 29 marzo e proprio come tutti ci aspettavamo ha fin da subito conquistato la classifica. Di recente, Vivero Niente è stato certificato disco di diamante il 15 maggio perché dallo scorso 29 marzo l'album è rimasto al primo posto delle classifiche Fimi degli album più venduti, per ben 7 settimane. Il disco quindi, nel giro di un mese e mezzo, circa, ha venduto più di 300.000 copie. La maggior parte di noi si aspettava questo risultato. Vasco è riuscito a far parlare del disco già prima della sua uscita. L'attesa per il nuovo lavoro discografico del cantotore era alta. Allo stesso tempo cresceva anche l'attesa di coloro che non vedevano l'ora di rivedere il grande Blasco Live. Poche settimane fa è stato infatti annunciato anche il tour di Vasco Rossi che lo vedrà impegnato ad esibirsi negli stadi delle grandi città italiane piene di fan. Allo Stadio San Siro di Milano sono previste ben quattro date, tutte già sold out, mentre a Roma ne sono previste due già sold out. Vasco sarà impegnato anche all'Einikian Jamming Festival. Il disco Vivere o Niente è stato anticipato dal singolo È Già. Il brano ha conquistato fin da subito la vetta della classifica radiofonica, tenendo il comando per ben 11 settimane. Il secondo singolo estratto dal disco di Vasco è Manifesto Futurista della Nuova Umanità. Il brano rock si presenta fin dal primo ascolto come un pezzo molto provocatorio. Dell'ultimo brano è stato subito proposto anche il video.